Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Amin. Gesù ti amo con la tua volontà, viene divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella Divina Volontà, Regine Immacolata, Celeste e Madre Mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti cosa spiriti più ardenti che mi ammetta a vivere nel Regno della Divina Volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo Regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto un popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana Regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel Regno del Volere Divino, stretta la Domana Materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella Divina Volontà. Tu mi farei da mamma e con mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la Divina Volontà, così possa restare sicuro di non uscire dal Regno Suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa Volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazie al Signore Conte, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ate, no sterques in cielos, santificetur nome tu, adveniat regno tu, fiat volontas tua, siccuti in cielo e in terra. Ate, no tonti ad皆さん come, l'ora di Dio e, la mia aree la vita, adesso andai in terra. Anche in to 1965, può essere guys quindi… Lawia, l'ora di Dio, sudah ecco la storia di Dio eo, qui non esrange che uchino sotto, L'ora di Dio e, vendita nel dà, che diciamo sta per la carne, L'ora di Dio, della generazione che cuesta per mlena extraordina. Padre nostro che sei Di cieli Liberaci da questo male Padre Tu fia d'amore Venga il tuo regno Tu supremo volere Tu fia volontà stuola Per sempre in te E tu in me Come un cielo così terra Come un cielo così terra Padre Ti canto una preghiera Quella che tuo figlio Ci ha insegnato Poi l'amore Noi tiguri Ti chiamo Noi tiguri Ti chiamo Dal libro di Cero Volume quinto Capitolo 15 30 giugno 1903 Trovandomi fuori di me stessa Ho visto la regina madre Ed io prostrandomi ai suoi piedi Le ho detto Dolcissima madre mia In che terribili strette Mi trovo Priva dell'unico mio bene E della mia stessa vita Mi sento toccare gli estremi E mentre ciò dicevo Piangevo E la vergine santissima Prendosi dalla parte del cuore Come se si aprisse una custodia Preso il bambino Da dentro E me lo ha dato Dicendo Figlia mia Non piangere Eccoti il tuo bene La tua vita E il tuo tutto Prendilo E tienilo sempre con te E mentre lo terrai con te Tieni il tuo sguardo Fisso nel tuo interno Sopra di lui Non ti imbarazzare Se non ti dice niente O se tu non saprai dire nulla Guardalo Solo nel tuo interno Perché col guardarlo Comprenderai tutto Farai tutto E soddisferai per tutti Questa è la bellezza Dell'anima interiore Che senza voce Senza istruzioni Siccome non c'è nessuna cosa esterna Che l'attira all'inquieta Ma tutto il suo attiramento Tutti i suoi beni Stanno conchiusi Nell'interno Facilmente Col semplice guardare Gesù Tutto intende Tutto opera In questo modo Camminerai fino alla vetta del Calvario E giunti che lì saremo Non più bambino lo vedrai Ma crocifisso E tu vi resterai Insieme con lui Crucifissa Onde pareva che Col bambino in braccio E la Vergine Santissima Facevamo la via del Calvario Mentre si camminava Qualche volta trovavo qualcuno Che mi voleva togliere Gesù E chiamavo in aiuto La Regina Madre Dicendole Mamma mia Aiutami Che vogliono strapparmi Gesù Ed essa mi rispondeva Non temere Il tuo studio Sia tenere lo sguardo Interno Fisso Sopra di lui E questo ha tanta forza Che tutte le altre forze Umane Diaboliche Restano debilitate E sconfitte Ora Mentre si camminava Abbiamo trovato Un tempio In cui si celebrava La Santa Messa Nel punto di fare La comunione Io sono volata Col bambino in braccio All'altare Per comunicarmi Ma quale non è stata La mia sorpresa Che appena è andato Dentro di me Gesù Cristo Mi è scomparso Dalle braccia E dopo poco Mi sono trovata In me stessa Capitolo 16 3 luglio 1903 Questa mattina Trovandomi sommamente Afflitta Per la perdita Del mio Adorabile Gesù Quando al meglio Si è fatto vedere Nel mio interno Che tutto riempiva La mia persona Cioè la mia testa Le mie braccia E così di tutto il resto E mentre ciò vedevo Mi ha detto Quasi volendomi Spiegare Il significato Del come si faceva vedere Figlia mia Perché ti affliggi Essendo io Il padrone Di tutta te E quando un'anima Giunge a rendermi padrone Della sua mente Delle braccia Del cuore E dei piedi Il peccato Non può regnare E se qualche cosa Involontaria Vi entra Essendo io Il padrone E l'anima Stando sotto L'influsso Della mia padronanza Sta in continua Attitudine di burgazione E subito ne esce Oltre di ciò Essendo io Santo Le riesce Difficile Di tenere in sé Qualche cosa Che non è santa Di più Avendomi dato Tutta se stessa In vita E giustizia Che io le doni Tutto me stesso In morte Ammettendola Senza Alcun ritardo Alla visione Beatifica Onde Chi tutto a me Si dona Le fiamme Del purgatorio Non hanno A che fare Con essa 3 agosto 1903 Capitolo 17 Provandomi Nel solito Mio stato Quando appena Con la mia Adorabile Gesù Facendomi sentire La sua Dolcissima voce Che diceva Quanto più L'anima Si spoglia Delle cose Naturali Tanto più Acquista Delle cose Sopranaturali E divine Quanto più Si spoglia Dell'amor Proprio Quanto più Acquista L'amore Di Dio Quanto meno Si affatica Nel conoscere Le scienze Umane Nel gustare I piaceri Della vita Tanto più Di conoscenza Acquista Delle cose Del cielo Delle virtù E tanto più Le gusterà Convertendosi Le amare In dolci Insomma Sono cose Tutte Che vanno Di pari passo Di modo Che se niente Si sente Del sopronaturale Se l'amore Di Dio È spento Nell'anima Se non si conosce Niente Delle virtù Delle cose Del cielo E nessun gusto Si prova La ragione Si conosce Benissimo Allora Questi tre capitoletti Sono Profondamente Connessi Tra di loro E Sono legati Diciamo Da un filo Conduttore Fondamentale Basilare Che è La vita interiore E la vita Profonda e costante Unione con Gesù Sono bellissime Alcune immagini Che sono state usate Per esempio Quella di vedere Gesù Nell'interno Che riempie La persona E gli organi Le membre La testa Le braccia Così come L'altra immagine Del prendere Il bambino Tra le braccia Ancora più significativa La Vergine Santissima Che si apre Dalla parte Del cuore Come se si apresse Una custodia Immaginazione C'è uno sportellino E ha preso Il bambino Da dentro Questa custodia E lo dà A Luisa No? Cioè Contemplare bene Questa immagine Apre grandi orizzonti Significa anzitutto Che la Madonna Aveva un cuore Nel cuore della Madonna C'era Gesù E nessun altro Ma Aprire uno sportellino E tirarlo fuori E darlo Vuol dire che Per Maria Santissima Gesù è sempre Tutto e completamente A sua disposizione E io sono assolutamente Convinto Che si fosse Anche quando era Sulla terra Non soltanto Ora che è in cielo Vivere nella divina volontà Giungere a questo Traguardo di sole Significa Fare vita H24 Con Gesù E chiaramente A questo ci si arriva Non dall'oggi al domani Ma attraverso Un'operazione Costante Perseverante Volontaria Sempre da rinnovare Allora Il segreto è Tenere lo sguardo Fisso Sopra di lui Nel proprio interno E guardarlo Bellissimo Questa espressione Della maronna Se non ti dice Niente Se non ti dice niente O se tu non saprai dire nulla Due innamorati Spesso e volentieri Non parlano Si guardano Si guardano Si ammirano E attraverso E attraverso il guardarsi Se sono profondamente innamorati Comunicano Si intendono Si intendono Ecco Questo sguardo interiore Fisso Proprio fisso Su Gesù E su Maria O anche su Gesù O su Maria Che tanto è Sempre La stessa cosa O quasi È un'operazione fondamentale Credo che Nei giorni scorsi In qualche meditazione Che abbiamo Utilizzato l'immagine Del mettere a fuoco Un qualcosa E però Del sottofondo Dello sguardo di sottofondo Lo sguardo di sottofondo Deve essere continuo Ma gli sguardi diretti Devono essere frequenti Tieni il tuo sguardo fisso Nel tuo interno Sopra di lui Questo chiaramente Si può fare Attraverso Una grande custodia Dell'interiorità Questo non è cosa Che possono fare Le anime Dissipate Disperse Che stanno sempre Fuori Senza mantenere Un profondo spirito Di raccoglimento interiore E questo vuol dire Distogliere Gli occhi Da tutte quante le cose esterne Che in qualche modo Ci attirano E Mantenerli fissi Nell'interno Guardando Gesù Bisogna provare a farlo Questo Esercizio E Verificare Come basta questo Per tutto Intendere Tutto Operare La Madonna Dice queste Le sue parole Il tuo studio Sia tenere Lo sguardo Interno Fisso Sopra di lui E questo Ha tanta forza Che tutte Le altre forze Umane Dieboliche Restano debilitate Sconfitte Questo non ce lo può Togliere a nessuno In altre parole Ed è talmente Santificante Un esercizio Di questo genere Da rendere Impotenti E da Debellare Tutte le forze Che si frappongono Nella nostra vita Interiore Che cercano Di distoglierci Di allontanarci Da Gesù E dal bene Quindi Questa vita Profondamente Interiore Ecco che Diciamo Pochi gustano Pochi comprendono E ancor meno Praticano Perché L'uomo Rimane sempre Un grande Bambino Ecco che E' attirato Dalle cose Che luccicano Ecco dai E dalle cose Tutte quante Esteriori Io ricordo Anche quando Leggevole Le prime volte Il trattolo Della vera devozione Anche San Luigi Confort Tante volte Esorta A questo Nei suoi scritti Noi La quasi Totalità Delle persone Prenderanno Questo che sto scrivendo Sul trattolo Della vera devozione Solo in quello Che c'è D'esteriore Quindi faranno I rosari Faranno Magnificat Faranno la coroncina Si mettono La catenella Scrivono l'atto Di consacrazione La rinnovano Sono tutte Cante cose Importanti Queste qui Però ricordati Che questa devozione Plasma L'interiorità Dell'anima Cioè tutto quanto L'esteriorità Senza l'interiorità Giova pochissimo Quasi a niente E però lui stesso Lamentava Che di tutte le persone Che avrebbero Abbracciato Questa Vera devozione Quasi tutti Sarebbero rimasti Al primo livello Cioè a quello Che ha di esteriore Quasi nessuno Sarebbe andato al secondo Almeno ancora al terzo Non parliamo Poi del quarto Del quinto Eccetera Ne parla proprio Esplicitamente In una sezione Della Perché questa vita Interiore Va anzitutto Considerata Nella sua Fondamentale Importanza E poi va curata Quindi È un esercizio Interiore Che deve essere Coltivato Gradualmente Piano piano Senza Scoraggiarsi Se si vede Che Oggi Mi sono Proposto Di pensare Nella giornata Gesù Non l'ho fatto Quasi mai Pazienza Attolo di dolore Il giorno dopo Si ricomincia Sicuramente Andrà meglio Ecco Ancora più forte È la seconda Immagine Di questo Gesù Che riempie L'interno Della persona Che cosa Esprimono Queste immagini Esprimono Gesù Vuol far capire A Luisa Che l'ha Già reso Padrone Di sé Attenzione Gesù È il Signore Dominus In latino Significa padrone Quindi Padre Pio Chiamava Dio Il padrone No? Nel senso Che se volesse Tutto è suo E niente Può sfuggire Al suo potere Alla sua potenza È evidente No? Ecco Ma Le creature dotate Di libero arbitrio Come noi Lui ne è il padrone Da un punto di vista Oggettivo Ma non da un punto di vista Soggettivo Perché lui è il padrone Di coloro che Lo fanno dominare Dentro di sé Volontariamente E questo dipende Da noi E che cosa Ne consegue Quando un'anima Giunge A rendermi padrone Della sua mente Delle braccia Del cuore E dei piedi Attenzione Il peccato Non può regnare Questa è un'altra Delle caratteristiche Fondamentali Della vita Nel divino volere E' chiaro che Quando qui Gesù parla Del peccato Lo intende Il peccato Alla giovannea San Giovanni Nelle sue lettere Scrive Che chiunque Nato da Dio Non pecca Nato da Dio Non pecca Significa Non pecca Sottinteso Volontariamente Quindi non commette Un peccato Ad occhi aperti Né mortale Cioè materia grave Né veniale C'è solo E questo Gesù stesso Lo ammette Qualche cosa Involontaria Che vi entra Ecco però Quando anche succedesse Dice Gesù Sendo io Il padrone E stando io Lo sotto l'influsso E stando l'anima Sotto l'influsso Della mia padronanza Stai in continua Attitudine Di purgazione E quindi Come entra Questa piccola cosa Involontaria Subita ne esce E' una vita divina Veramente Questa qui Quindi Quindi Più avanti Gesù spiega Fa una bellissima L'ultima parte Che adesso Ci accingerà a meditare Fa una bellissima analisi Molto Stringente No? Ma è chiaro Che se In un'anima C'è ancora La presenza Del peccato Volontario E' ancora Molto in ritardo Diciamo così Nel Quanto meno Nel cammino Di santificazione Personale No? Ecco perché Chi pecca Volontariamente Mostra ancora Una coscienza Grossolana Una scarsa Fede Una scarsissima Carità Non ancora Anteriorizzato La carità Del peccato Quanto il peccato Offende Dio Quanto distrugge L'anima Quanto sia la cosa Più sciocca Più irrazionale Più folle Da commettere Da commettere In ogni caso Chi vive a questi Livelli Chi vive in questo Modo Gesù Testualmente Dice Che le fiamme Del purgatorio Non ci saranno Quindi che si muore E si va Direttamente In paradiso Quindi diciamo All'elenco Di quelle Anime Che sono Destinate Al paradiso Diretto Diciamo Che si evincono Dal pensiero Comune Diciamo così Degli autori Ecclesiastici Cioè Bambini Battezzati Prima di poter Commettere Al compieccato E i martiri D'accordo A cui si potrebbe Anche aggiungere Il martirio Della carità Quindi quelli Che Gesù Sono un amore Più grande Di chi dà la vita A i propri fratelli Quindi Dovesse morire Per amore Per salvare Un prossimo Cosa di questo genere Ecco Bisogna aggiungere Qualche altra categoria C'è per esempio Sant'Alfonso Che dice Che in purgatorio Non ci va Chi Essendo In prossimità Della morte Offre a Dio Il sacrificio Della propria vita Questo lo scrive Non mi ricordo Se Nella pratica Di amare Gesù Cristo E credo che sia Nella pratica Di amare Gesù Cristo Se nel parecchio Della morte Ma credo che sia La prima Lui era convintissimo Del fatto Che se una persona Avvicinandosi La morte Coscientemente Entra in questo orizzonte E dice Bene signore Io ti offro Il sacrificio Della vita Che devo pagare Come conseguenza Del peccato Accetto Di morire Accetto Di lasciare Questo mondo Ti offro Tutte le sofferenze Che accompagneranno La mia agonia E mi distacco Da questo mondo Ti offro il dolore Di dover lasciare Le persone A cui voglio bene Tanto Alfonso Dice che è capace Di fare una cosa Di questo genere E purtroppo Adesso non ci va E qui abbiamo Un'altra cosa Ecco Che sono le anime Che rendono padrone Gesù Di tutto Ossia Che gradualmente Imparano a vivere Nella divina volontà Ultimo Aspetto Ma non meno importante È questa Legge Ecco Diciamo così Spirituale Che Gesù Postula Se vuoi le cose Soprannaturali Divine Devi spogliarti Delle cose Naturali Se vuoi L'amore di Dio Devi spogliarti Dell'amor proprio Se vuoi La conoscenza Delle cose Del cielo E delle virtù Devi moderare La conoscenza Delle scienze umane E l'attaccamento I piacere della vita E Gesù dice Una cosa Molto semplice Se l'amore di Dio È spento nell'anima Se non si sente Nulla di soprannaturale Se non si conosce Niente delle virtù Delle cose del cielo E nessun gusto Si prova La ragione Si conosce benissimo Qual è la ragione? Vuol dire Che non si è affatto Spogliato Delle cose naturali Quindi E questo significa E Come dire Dove è convogliata La nostra attenzione E anche come sono I nostri Modi comuni Di procedere Di ragionare E di vedere Le cose Se non hai Molto amore Di Dio Vuol dire Che dentro di Dio C'è molto amor proprio Disordinato Per conto È l'amore santo Di se stessi Che è soltanto Che è una cosa Buona Ma è da coltivare Cioè l'amore Per il bene Della propria anima Ma l'amore proprio È l'egoismo Mettere sempre Se stessi I propri interessi I propri comodi Del primo posto E questo non va D'accordo Con l'amore di Dio E poi Se vuoi piaceri Della vita terrena Non puoi gustare Il piacere Delle cose celesti O l'uno O l'altro Ecco quindi Quando ci vediamo L'amore di Dio Spento nell'anima Non si sente Nulla del sopranaturale Si è abbastanza Grossolani Nella conoscenza Delle virtù E delle cose Del cielo E soprattutto Se non si prova Nessun gusto Sopranaturale Spirituale Nelle cose di Dio Vuol dire Che ci troviamo In queste condizioni Ma ci troviamo In queste condizioni Certamente Per nostra libera scelta Queste nostre condizioni Possono cambiare Se la nostra volontà Si va a disporre Differentemente Come il Signore attende Per farci molto bene E come anche La nostra anima attende Per poter vivere In pienezza La sua chiamata A vivere Solo Di Gesù E per Gesù Per oscela Il Signore Per oscela E per oscela E per oscela E per oscela Grazie a tutti. Grazie a tutti. Insegno a Santa Vergine Maria avere una vita profondamente e sempre interiore, non distogliere mai lo sguardo dati da Gesù a imparare a vivere in questa sorta di ininterrotta contemplazione. Ovviamente non ci distoglia dall'adempimento di tutti quanti i nostri doveri e delle cose buone che il Signore ci chiede, ma ci consente di farlo sempre in perfetta sintonia e connessione con i puleri divini. Da questo dipende gran parte del nostro cammino non solo di santità, ma del nostro cammino di avvicinamento al Regno della Divina Volontà, che comporta una vita totalmente interiore. Come sappiamo, non appaiono cose appariscenti, ma è vivissimo il lavorio, il contatto, il rapporto ininterrotto con il cielo. La tua mediazione di grazia, la tua potenza, la tua intercessione, la tua mano ci guida e ci accompagni a insegnarci a vivere questa vita che è stata la tua vita di intima e interrotta comunione. Con te e con Gesù. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen, ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Fiat Ave Maria